La Sapiera Associazione Apicoltori di Regione Abruzzo terrà domenica un importante evento, un concorso con la premiazione dei mieli più importanti e anche un convegno? Sì, è una giornata molto densa perché al concorso Iannetti, che è la quattordicesima edizione di Miele del Territorio, seguirà la seconda edizione del Miele in Cucina ed è un evento per mettere in evidenza le migliori produzioni del territorio abruzzese. L'APE rappresenta la sintesi di tutto questo e per dare concretezza anche a questa giornata il convegno darà un contributo tecnico per gli apicoltori ma soprattutto una informazione ai consumatori, ai ristoratori perché il Miele in Cucina sarà utilizzato da uno chef molto importante che è il braccio destro di Bottura, Davide Di Fabio, accompagnato da altri tre chef di levatura nazionale e quindi ci sarà anche la degustazione e ci sarà un pranzo attraverso il quale finanzieremo un lavoro di ricerca sulle api degli studenti dell'università e quindi diamo concretezza ad una giornata che è di festa, di premiazione del Miele del Territorio, un'altra premiazione dell'apicoltore dell'anno ma è anche un modo per far emergere dal nostro territorio queste strutture scientifiche di rilievo, l'università LIZS. Il premio è l'occasione per mostrare alla cittadinanza uno spaccato del nostro territorio e questo spaccato ha come protagonista l'APE. All'evento parteciperà anche quest'anno l'Istituto Alberghiero di Poppa? Sì, come sempre i ragazzi collaboreranno con un'attività di alternanza scuola-lavoro. È una bella squadra, sono quasi 50 ragazzi e sarà sì un'attività di collaborazione ma è stata una scelta fatta proprio perché sarà un'attività di formazione sia per i temi trattati sia perché durante l'evento i ragazzi avranno l'opportunità di lavorare anche con degli chef stellati e quindi è un'occasione importante di crescita. Dove si terrà e quali saranno alcuni dei relatori? Si terrà domenica dalle nove e mezza in poi presso i locali alla Pantera Rosa di Tofo Sant'Eleuterio ci saranno relatori nazionali dal professor Paparella dell'Università di Teramo a Terriaca che collabora con la Federico II dell'Università di Napoli, veterinaria di Napoli Racinelli che viene da Milano una tavola rotonda con una giornalista che viene da Milano insieme al professor Amorena a Terriaca che viene da Milano